ciao amiche di trucco ben trovate allora annunciazione annunciazione allora niente faccio questo video unicamente per comunicarvi un'idea che ho avuto in questi ultimi giorni allora siccome sono arrivata non è un traguardo ragazze perché per me non veramente non contano i numeri conta l'appel con il pubblico e voglio fare questa cosa proprio il nome del legame che si crea con chi segue i miei video allora l'idea è questa sentite allora praticamente non è un video per celebrare i 6.000 iscritti però mi è venuta siccome Flavio mi dice sempre mamma devi fare lo speciale 5.000 iscritti 6.000 iscritti perché fanno tutti così ecco non è che voglio fare un video celebrativo però voglio celebrare la nostra unione ecco perché le unioni quelle felici vanno sempre festeggiate in qualche modo quindi io volevo chiedervi la vostra partecipazione perché avrei in mente di fare un video e di fare un video che non lo faccio io ma lo fate voi nel senso che vorrei che se vi va ovviamente non siete né sentitevi forzate e poi vabbè comunque già mi sto confondendo allora vi chiedo se vi va di girare un piccolo video per poi mandarmelo e io monterò tutti i video in un unico video quindi questo video lo farete voi vi chiedo questo regalo perché io mi emoziono tantissimo quando ma anche con i commenti io vi riconosco tutte e mi affeziono anche se non vi vedo quindi per me sarebbe un piacere grandissimo vedervi questo non vuol dire che vi dovete riprendere in viso perché capisco che tanti di voi non non vogliono ovviamente apparire su un social potete dar spazio alla vostra creatività non lo so riprendete il vostro animale un libro le piante quello che volete dite qualcosa ovviamente sono esclusi gli insulti la maleducazione tutte queste cose qui non limitatevi a dirmi quanto sei bella quanto sei brava perché appunto non vorrei aver dare a questa idea un tono troppo autocelebrativo è un è una partecipazione collettiva ecco perché questo mezzo a me non è mai sconfinferato tanto perché comunque non è particolarmente democratico cioè io sono qui parlo e voi siete ascoltate quindi vorrei ecco portarvi un po da da quest'altra parte quindi libere potete fare dire quello che volete ovviamente sempre nei limiti dell'educazione questo serve neanche che lo dica ma lo dico perché comunque chiunque può vedere questo video vi lascio una mail nell'info box odio se non erro poi la scrivo qui ecco apparirà in questo momento 6.000 con federica chiocciolagmail.com i video devono essere brevi insomma non possono essere video di tanti minuti ma più che altro proprio una questione pratica perché non c'è si riempie come si dice il server non lo so insomma comunque è meglio fare dei video brevi e possibilmente con immagino che le girerete col cellulare quindi possibilmente cellulare in orizzontale altrimenti poi se lo devo mettere in verticale si vede insomma perde un po di bellezza ecco di anche di gradevolezza nella nella visione questo dai facciamo insieme questa cosa carina mi piace ho voglia di vedervi io mi emoziono tanto quando c'è qualche temeraria che mi manda i vocali in direct su instagram e a sentire la voce rimango veramente perché dopo dopo tanti anni che so così su youtube a blaterare io ancora non mi rendo conto che dall'altra parte ci sono tante per me cioè sono numeri piccoli se considerati grandissimi canali insomma però per me tantissimo per me sono numeri grandissimi insomma siete sempre riuscite a darmi tanto ed è per questo che sono sempre tornata perché non è un social che a me fa impazzire non mi fa impazzire quello quello che vedo ma io voglio usarlo a modo mio insomma comunque una grandissima potenzialità posso arrivare a tanti di voi e quindi ci tengo e ci ho sempre tenuto a mandarmi dei messaggi positivi e spero che anche questa idea sia un qualcosa di positivo di carino da fare insieme ecco insieme questa è la è la parola chiave di questa di questa iniziativa quindi vi ricordo che vi lascio l'email scritta vabbè e qui perché sono diventata tecnologica non vi dico per capire ma io sti video dove me li faccio come faccio come faccio e poi ho chiesto al marito mi ha detto fatti un email e li fa inviare vi ricordo appunto non troppo lunghi fate voi tanto poi ve ne rendete conto insomma quando girate dei video insomma e siate creative io non voglio darvi più di tante indicazioni perché non sto dando un compito fate voi fatemi arrivare un pochino c'è chi siete che cosa vi trattiene in questo canale quello che volete insomma date libero sfogo alla vostra la vostra creatività e basta spero di aver detto tutto qualsiasi chiarimento insomma tranquille mi scrivete nei commenti e vi ricordo che la mail la trovate anche nel nell'infobox quindi vi mando mille baci e vi aspetto vi aspetto ciao amiche di tutto